Il FineCut è un prodotto fissla dalle svariate applicazioni che può spezzettare frutta, verdure ed erbe aromatiche in pochissimo tempo. Il FineCut miscela zuppe e salse e può essere anche utilizzato per centrifugare le erbe aromatiche, il tutto senza ricorrere alla corrente elettrica. Le due lame in acceio inox asportabili tagliano in modo straordinariamente rapido le verdure crude in pezzi grossi, piccoli e piccolissimi. Le verdure non vengono ridotte in poltiglia, ma sono tagliate in pezzi netti e uniformi. Il numero di volte in cui viene attivata la corticella determina lo spessore del cibo. Il cestello di centrifugazione asciuga perfettamente le erbe aromatiche e consente loro di rilasciare a pieno il loro sapore una volta giunte alle insalate. Abbiamo già spezzettato questi ingredienti con il FineCut e ora procediamo a miscelarli sempre con lo stesso strumento. Con l'inserto per la miscelazione possiamo preparare ad esempio condimenti per insalate o salse di pomodoro direttamente nel FineCut. Il pratico coperchio trasforma il FineCut in un contenitore ideale per conservare gli alimenti in frigorifero. La pulizia del FineCut è estremamente semplice, è sufficiente passare il coperchio e la corticella con una spugna o un panno umido. Tutte le altre parti possono essere comodamente lavate in lavastoviglie. Il contenitore e tutte le altre parti come il coperchio, il rotore di taglio, l'inserto di miscelazione, il cestello di centrifugazione, il supporto di sollevamento e la spatola sono inclusi nella confezione e rendono il FineCut Fissler uno strumento davvero duttile. Il FineCut consente di preparare facilmente e rapidamente zuppe e salse, pappe per bambini, patè, creme, condimenti per insalate, frappè o muesli. Siamo certi che saprete godere di tutti i vantaggi offerti dal vostro FineCut di Fissler.